Un mini arsenale fra cui una potente mitraglietta Uzi è stato scoperto la notte scorsa dai carabinieri a Catania durante un blitz nel quartiere San Cristoforo. I militari in un condominio nella zona del tondicello della Playa hanno ritrovato quattro pistole, la mitraglietta Uzi e circa 400 munizioni di vario calibro. Le armi, tutte in ottimo stato, saranno inviate a res di Messina per gli accertamenti balistici, per capire se sono state già impiegate in episodi criminali. Sono in corso ulteriori indagini per risalire a chi può avere avuto in uso l'arsenale, specie tra le cosche mafiose etnè.